Presidente Mucchi, qual è la mission del Fondo Comune delle 15 casse rurali trentine e come si sviluppa nel territorio il concetto di mutualità? Il Fondo Comune che nasce come holding dell'informatica ha avuto uno sviluppo in questi ultimi tempi individuando una nuova mission rispetto a quella della risposta legata al digitale a fronte della vendita di Phoenix Informatica, una importante società che è andata a confluire nel gruppo Cassa Centrale Banca. Da quel momento il Fondo Comune è divenuto una società di marketing finalizzata a promuovere il marchio casse rurali trentine, ovvero un'opportunità per le casse rurali del territorio provinciale di agire anche in forma unitaria su tutto quello che per statuto debbono e vogliono restituire alle genti, alle popolazioni e ai territori provinciali. Perciò la mission è quella di operare assieme per mantenere e rafforzare l'identità trentina legata a quello che è il lavoro delle casse rurali. In termini pratici il fondo eroga finanziamenti e promuove attraverso azioni di marketing il marchio casse rurali trentine affinché questo venga conosciuto, riconosciuto e rimanga sempre nella mente delle popolazioni di questo territorio. Iniziative che poi hanno anche supporto quando vengono svolte sui singoli territori e perciò si affianca a quella che è l'attività specifica che ogni singola cassa rurale del territorio di competenza svolge donando attraverso regole appropiate quello che è il 27% del proprio utile di bilancio annuo. Tutto chiaro Presidente? Buona giornata!